Radio Radicale, siamo con Arturo Scotto, coordinatore di Articolo 1, per parlare del decreto ucraina che è stato votato ieri dalla Camera dei Deputati e quindi convertito in legge. Allora, ci spiega qual è stato il suo atteggiamento parlamentare e quello di altri, come Nico Stumpo, insomma, Laura Boldrini nei confronti di questo provvedimento, perché oggi abbiamo visto parecchi commenti. Allora, volevo chiedere un po' come era andata ieri. Io ho una profonda convinzione, che è politica, non di natura etica, che l'Europa in questo conflitto è il vaso di coccio. E' il soggetto globale che sta subendo di più le conseguenze di questa guerra, perché ha scelto di ritirarsi dalla sua funzione, che è quella di riuscire a determinare lo spazio in negoziato. Invece, dopo 11 mesi dalla barbara invasione di Putin dell'Ucraina, sta agendo solamente la logica delle armi. Un'escalation militare pericolosissima, che rischia di piegare qualsiasi possibilità di pace e rischia di far precipitare il mondo dentro un baratro pericoloso. Leggo di dichiarazioni mobilitanti, dal vago sapore bellicista, anche di autorevoli leader europei, che dicono che occorre vincere la guerra. Vincere la guerra significa mettere nel conto uno scontro nucleare, perché nessuno può vincere la guerra contro una potenza nucleare. Lei quindi non l'ha votato il decreto? Non ho votato il decreto. Penso che sia un provvedimento che spropia il Parlamento di qualsiasi funzione, che lo riduce a mero ratificatore e che rischia di produrre nei prossimi mesi un cortocircuito tra la funzione del governo e l'opinione pubblica. perché il Parlamento deve essere coinvolto in ogni passaggio, soprattutto al momento in cui si va verso una direzione estremamente pericolosa di una crescita ulteriore dell'invio delle armi. Secondo lei Putin ha dato dimostrazione di essere disponibile al confronto? Io penso che Putin non abbia dato dimostrazione di essere disponibile al confronto, perché è l'autore di questa guerra, è colui che l'ha iniziata. È chiaro che ci sono anche delle responsabilità, anche dell'Europa, di non aver implementato nel corso degli anni gli accordi di MISC, di aver lasciato incancremire la situazione, di aver offerto l'immagine di una sovrapposizione tra l'Unione Europea e la Nato, che sono due cose distinte. E questo chiaramente ha prodotto questa ordalia retorica di tipo etnonazionalista che è la grande benzina che alimenta il regime di Putin. È chiaro che Putin lo smonta, lo può smontare solo la politica. Fino ad ora abbiamo visto che la logica militare non l'ha smontato, anzi ha ulteriormente compattato le file russe, producendo per la società civile di quel paese diciamo ulteriori elementi di chiusura e di censura. Che differenza c'è stata tra il dibattito che c'è stato qui e quello che c'è stato in Germania su questo tema? Allora, noi sappiamo che la Costituzione tedesca, la legge fondamentale del 1949, una legge che credo l'articolo 26, adesso non ricordo bene, non sono un costituzionalista, insomma ha dei limiti abbastanza chiari per quanto riguarda l'invio delle armi o la partecipazione della Germania a certe iniziative. Allora, lei pensa che il dibattito che c'è stato in Germania sia simile a quello italiano? Ma indubbiamente la Germania e l'Italia quando si parla di guerra sono attraversati da un dibattito che ha molte cose in comune. C'è una sensibilità comune, sono i due paesi che hanno provocato la Seconda Guerra Mondiale e che l'hanno per fortuna persa. Noi ci troviamo di fronte a un dibattito drammatico dentro il contesto tedesco, sia per le ragioni che lei illustrava, dei vincoli costituzionali, sia per quello che rappresenta la storia. Ed è chiaro che l'invio dei tank Leopard, il tentativo di isolamento del cancelliere tedesco riportano alla memoria diciamo di qualche decina di anni fa. Aggiungo, è chiaro che si sta delineando un nuovo scenario geopolitico che è sotto gli occhi di tutti. Se posso fare un parallelo, non credo particolarmente azzardato, nel 2003 l'intervento illegittimo degli Stati Uniti d'America in Iraq produsse una spaccatura del campo europeo. Il disegno di Rumsfield, di Donald Rumsfield, che era il ministro della difesa dell'epoca dell'amministrazione Bush, produsse un distacco dell'asse franco-tedesco, tant'è che Schroeder e Chirac si opposero alla guerra in Iraq e il resto dei paesi UE e Nato, compresi nuovi paesi dell'est, a rimorchio degli Stati Uniti d'America. Oggi si sta delineando uno scenario che ci dice che sta nascendo una nuova natura, come dicono tutti gli analisti, lungo un'asse Washington, Londra, Varsavia, con i paesi baltici e i nuovi paesi scandinavi che puntano ad entrare in Europa, che diventano la prima frontiera antirussa, alimentando anche nazionalismi vecchi e nuovi. E il vecchio nocciolo duro dell'Europa, quello più interessato a scommettere sull'autonomia strategica è una politica estera e di sicurezza comune profondamente indebolito. È quello che sta accadendo e anche la vicenda che ha investito il cancelliere Scholz in dibattito tedesco parla di questo. L'ultima domanda La scelta del PD, la linea del PD, come la considera con questo voto sul decreto ucraino? Se vuole dirlo, non la voglio dire. No, è una linea che ovviamente non condivido, l'ho detto anche all'Assemblea nazionale costituente di sabato scorso. Ho detto, attenzione, era obbligo morale consentire all'Ucraina di ristare in piedi, ma farsi parte non significa essere parte passiva nello sconto, significa dare una chance alla politica e alla diplomazia. Quando la sinistra si ritira da una funzione politica rischia di essere rilevante. e io vedo il rischio e l'irrilevanza rispetto a un conflitto che può aprire come dire orizzonti incalcolabili che indeboliscono l'Europa e quando l'Europa è stata debole la sinistra è diventata muta in ogni passaggio della sua storia. Chiarissimo, la ringrazio molto. Ringrazio lei, ringrazio Radio Radicale come sempre. Grazie Arturo Scotto di coordinatore di articolo 1 e membro del gruppo parlamentare PD Italia Progressista e Democratica. Grazie.